Giocare a calcio prima di tutto è un gioco di squadra, fa bene perché crea un gruppo, una collettività e un modo per confrontarsi con gli altri. Ho cominciato ad appassionarmi a questo movimento, ho cominciato a seguirlo e sto conoscendo sempre di più un mondo che vive da tantissimi anni facendo grandissimi sacrifici sotto tutti gli aspetti di chi se ne occupa esternamente, chi va sul campo, i presidenti che fanno sacrifici per continuare a far giocare queste ragazze. Come si può fare per dare più visibilità al calcio femminile? Io spingo molto su un concetto, la quotidianità, bisogna parlare di calcio femminile con la normalità con cui si parla di altri sport e quindi di guardare il campo, di guardare le partite, di guardare la pratica, gli attacchi, i gol che fanno queste ragazze. Credo che nell'abitudine si possa superare la ricerca della visibilità ad ogni costo. Devi fare tanti sacrifici, devi oltre a allenarti devi fare qualcos'altro perché per forza devi mantenerti quindi non è dura, cioè scusa è dura, rifacciamo. Una strada che si è iniziata a percorrere è molto importante che è quella del coinvolgimento delle società maschili di A e di B per quest'anno e successivamente anche delle varie serie inferiori quindi a seguire proprio per tesserare queste ragazze e per poter coinvolgerli nel dare anche loro come società maschili un contributo importante nella crescita di questo movimento. Sicuramente venire incontro alle ragazze è un obiettivo che si è posto alla federazione e alla Lega Nazionale Direttanti. Quello che ho sempre sostenuto è che qua non bisogna fare distinzioni di ruoli ma bisogna collaborare tutti insieme. Dottoressa Sensi, negli ultimi giorni si è parlato molto della scelta di Deborah Novellino di partecipare a Miss Italia. Ma è un messaggio molto, da parte mia penso, l'ho interpretato come un messaggio molto divertente ma anche molto importante perché praticare calcio femminile non vuol dire distorcere la propria fisicità, questo è stato detto da diversi professori, non da me certamente ma da chi è competente in materia e forse Deborah può essere un segnale importante per dimostrare che pur essendo un terzino di una squadra che milita in Serie A si riesce ad essere femminili. Ma non c'è solo Deborah, devo dire che ce ne sono tante. Ma l'attenzione che è stata dedicata al caso, chiamiamola il caso Locri, è stata molto importante sia da parte del Presidente della Lega Nazionale Direttanti Antonio Cosentino che è da parte del Presidente Fabrizio Tonelli che è il Presidente della divisione Calcio 5 perché si parla di una squadra di Calcio 5. Per fortuna credo sia stata risolta rapidamente lasciando da parte quelle che sono le attività delle autorità giudiziarie su cui io non voglio assolutamente esprimere giudizi perché non mi sembra proprio la persona più competente per farlo. Sta diventando sempre più avvincente questo campionato grazie quest'anno anche all'apporto della Fiorentina da parte della Valle che hanno seguito le indicazioni del progetto della Federcalcio e quindi non solo si sono apparentati ma hanno rilevato una squadra di calcio del Firenze e quindi oggi abbiamo un campionato che può essere ancora più avvincente, cosa che dimostra che le partite si possono seguire con la stessa passione e i tifosi le seguono con la stessa passione con cui seguono quelli del calcio maschile. A me manca il ruolo della Roma sicuramente, è un capitolo chiuso ma non mi manca la Roma perché da tifosa la seguo quotidianamente per cui il calcio fa parte del DNA della nostra famiglia a partire da mio nonno Silvio, mio padre soprattutto per cui la Roma è sempre nella nostra famiglia. Ho grande stima nell'allenatore, conosco l'uomo, conosco l'allenatore quindi da tifosa e da persona che l'ho avuto come presidente posso solo che pensare bene. Prima di tutto io vorrei dire che Toccia non è solo un simbolo della Roma, oggi deve essere ed è un simbolo per tutti i bambini italiani che approcciano a questo sport perché ci devono essere dei riferimenti e dei riferimenti come quelli positivi che rappresenta Francesco. Tristezza di non vedere giocare Francesco in campo sicuramente c'è sempre, ci saranno state le buone motivazioni per cui non sia stato fatto mettere e scendere in campo, queste sono decisioni su cui io non voglio assolutamente dare giudizi perché non conosco le situazioni quindi credo che anche lui ne sia stata a conoscenza. Penso che sia necessario non solo per la Roma ma per tutto il calcio italiano poter avere i propri stadi, ogni società possa avere il proprio stadio quindi credo che sia un percorso che debba finire necessariamente con uno stadio per ogni squadra di calcio e quindi ovviamente per la Roma.